Vedo che siete presenti in molti e mi sembra una cosa oltre che buona abbastanza normale perché questo convegno parla di acqua e parlare di acqua vuol dire naturalmente parlare di vita, soprattutto parlare di vita se come sembra c'è questa sostanza del nome che devo leggere perché FAS è la sigla, però questo nome è complicato che in realtà potrebbe significare produzione di sostanze chimiche usate nei campi, soprattutto tessile, che avrebbero inquinato un territorio molto vasto tra le province di Padova, Vicenza e Verona. Si parla di 150.000 chilometri quadrati e 300.000 abitanti coinvolti. Il convegno è organizzato dall'Associazione di Lega Ambiente e coordinamento acqua e libero di FAS. Ci saranno vari interventi, il primo è del professor, no, prima di Piatoso Boscagin che è il coordinatore di Acqua e Libere e il presidente del circolo Barla Blu. Io lascerei la parola direttamente a lui, presenterà anche una raccolta firma alla fine del suo intervento e quindi do la parola a lui.